Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti nuovo video chiacchiericcio, come state? Spero bene allora, questo è un video chiacchiericcio dove tra poco spolvererò la mia camera tutta quanta, forse la lavo anche, non lo so però almeno nel frattempo la lavo tutta quanta prima dopo spolverarla ovviamente ho il mio cavalletto che è disteso sul letto ma tra poco lo sollevo per poter pulire insieme a voi la, come dire, la mia la mia camera e nulla, se vi è piaciuto questo video mettete già un bel like di supporto, un commento e se vi piace questo canale iscrivetevi, ok? e niente, adesso io stoppo il video oppure si, lo stoppo e ci vediamo dopo allora, eccomunque, nel frattempo vado a prendere polivetro e straccio per pulire i vetri e mi metto all'opera un attimo solo, torno subito ovviamente lascio la registrazione aperta ma mi faccio a prendere il polivetro come polivetro sto utilizzando questo della Dexal che ce n'è pochissimo, non molto ma una appena ce n'è basta per, proprio è un po' sporco perché era sotto il lavello, sotto il lavandino, sotto il lavandino quindi la mia camera è un po' sporco, quindi la mia camera è un po' sporco per la mia camera. Grazie a tutti.